Una mattina mi sto svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso Oh partigiano, portami via Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Partigiano, portami via, perché mi sento di morire E se io muoio da partigiano Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E se io muoio da partigiano E tu mi devi sento di morire E seppellire la simmontagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao E seppellire la simmontagna Sono laurea magistrale all'Università di Foggia con 110 e l'O Del filologia moderna, cultrice di storia della storiografia Appassionata di storia moderna Che già precedentemente il 20 ottobre mi pare Ci ha fatto una conferenza molto interessante Sulle donne durante il ventennio fascista E io penso che oggi questo sia un utile prosieguo Perché invece ci parlerà delle donne durante la resistenza E un po' a tutti forse viene un po' Per questo periodo è più facile associare delle immagini A questo periodo delle donne della resistenza Quella bellissima ragazza del giorno della liberazione felice Queste donne felici accanto ai loro uomini E quindi la resistenza è rappresentata dopo l'8 settembre Per molte donne è un momento utile per essere protagoniste della storia E non più subire la storia E la maggior parte di loro hanno partecipato alla lotta partigiana Anche se alcune, è vero, mi pare che Alcune sono comunque rimaste un po' angorate Ma una netta minoranza invece Alla pubblica di Salome E quindi stasera ci parlerà Non dopo la parola alla professoressa E' quanto più importante quello che dice lei Ci parlerà a punto delle donne A settembre A posto A posto Vengo scongiurata Grazie Ora io ringrazio Per la commentazione così lusinghiera Che è stata fatta Ringrazio tutti voi per la presenza Per l'attenzione Due strade che un po' parallele Che non si incontrano mai Ma che in realtà nascono dallo stesso bisogno di autonomia Di indipendenza Quella appunto delle partigiane Che è la strada della maggioranza Poi delle donne E l'altra che forse è poco conosciuta Non è un po' condannata alla dannazio memorie Ma che io ritengo ugualmente importante Perché ha rappresentato un fenomeno comunque significativo E anche un unicum nella storia d'Italia Come vedremo più avanti Che è quella delle donne Che adedirono alla Repubblica Sociale di Salo Allo SAF Servizio Auxiliario Femminile Allora, partiamo con ordine Io ho scelto per iniziare questa frase di Wilde Che mi sembrava molto appropriata al contesto Date alle donne occasioni adeguate Ed esse possono fare tutto Allora, iniziamo con la presentazione Questa volta le slide funzionano Il computer è adeguatamente collegato Allora, le donne della resistenza Le partigiane Dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43 Nella confusione generale E in una nazione che era allo sbando Le donne sembrarono le prime a comprendere Che la guerra non era finita E che sarebbe stata guerra dura Contro i tedeschi occupanti E contro gli alleati fascisti Esse, infatti, in ogni parte del paese Spontaneamente Offrirono ogni sorta di aiuto Ai militari sbandati Così che le testimonianze Di questa sorta di materneggi di massa Come lo ha definito la storica Anna Bravo Nei giorni che seguirono l'armistizio Furono migliaia Le donne furono spinte ad aiutare la resistenza In seguito di una rapida disillusione Nei confronti del regime Che dalla guerra di Spagna Dalle leggi razziali contro gli ebrei Già era cominciato a suscitare perplessità e dissensi Diciamo che leggi razziali del 1938 Aprirono gli occhi a moltissime persone Anche a moltissime donne Sugli errori gravi, capitali Che il fascismo stava commettendo E la guerra, le privazioni, i bombardamenti Ma soprattutto l'occupazione tedesca Che si faceva di giorno in giorno Sempre più pesante Soprattutto dopo l'armistizio Perché i tedeschi poi considerano gli italiani Dei traditori E sostanzialmente portarono le donne italiane Nella loro grande maggioranza A decidere di fare qualcosa per il proprio paese Perciò loro nel disastro E anche nella vergogna delle altre gerarchie Perché purtroppo l'esercito italiano Si sbandò in quei momenti Nei giorni dell'armistizio Le donne trovavano la patria Però non la patria retorica o geografica Neanche la patria fascista Ma la patria intesa come casa, comune, cosa comune Cioè la patria di tutti E quindi anche delle donne La lotta di liberazione Fu una presa di coscienza individuale e di massa E le donne entravano nella storia Nel momento di massimo avvenimento Di maggiore difficoltà di una nazione Che era sbandata ed era accusata di trenimento E viveva quindi un momento di grande difficoltà Nelle campagne furono spesso le contadine Dall'Abruzzo al Veneto Rimaste sole nei casolari con gli anziani Con i bambini Quindi con il peso anche Di famiglie da mandare avanti A raccogliere, a nascondere A nutrire gli sbandati e gli ex prigionieri Ma l'organizzazione si creò soprattutto Nelle città e nei paesi Tutte le mille risorse Che il genere femminile Aveva sempre trovato per il benessere della famiglia Erano impegnate per la salvezza dei partigiani Che da questo aiuto generoso Erano spinti a riprendere coraggio e vigore Quindi il supporto che le donne Diedono anche ai partigiani Prima ancora di decidere poi loro stesse Di diventare partigiani Fu fondamentale Ben presto sul suggerimento dei partiti Del Comitato di Liberazione Nazionale Le donne iniziarono a darsi una struttura E un'organizzazione che era ben definita Infatti nel novembre del 43 a Milano Alcune dirigenti del Comitato di Liberazione Nazionale Come Giulietta Fibbi E Rina Piccolato, comuniste Laura Conti e Lina Merlin, socialiste Elena Adrere e Ada Gobetti, azioniste Gettarono le basi di organizzazione femminile di massa Che prese il nome di gruppi di difesa della donna E di assistenza ai combattenti Allora, io ho preparato due slide Tre slide con alcuni profili biografici Di tre donne significative Purtroppo non ho potuto ovviamente Provarle di tutte Però tre figure mi hanno particolarmente colpito Una sicuramente la conoscete Lina Merlin, insomma Sicuramente la conosciamo tutte Che visse l'infanzia della giovinezza a Chioggia Diplomata si maestra elementare Proseguì gli studi in Francia E conseguì così l'abbitazione All'insegnamento del francese nelle scuole medie Si oppose al primo conflitto mondiale E nel 19 si iscrisse a partito socialista italiano Durante il regime Per essersi rifiutata di prestare il giuramento fascista Fu dimessa dall'insegnamento Arrestata a più riprese Nel 26 per la sua attività antifascista Fu condannata a 5 anni di confino in Sardegna Dopo l'8 settembre 1943 Prese parte alla guerra di liberazione E le file della resistenza E dopo la liberazione Entrata nella direzione del partito socialista Fu tra le fondatrici dell'UDI Unione Donna Italiane Eletta al Senato nel 1948 Fu riletta nel 1953 Nel 1958 passò alla Camera E tra le sue iniziative parlamentari Mentre la più conosciuta Quella della chiusura delle case chiuse Che poi entrò in vigore il 20 settembre del 1958 Molti anni dopo la presentazione della proposta di legge Poi un'altra figura interessante È Ada Gopetti Ada Prospero Sponata Gopetti Che fu la moglie di Piero Gopetti Uno dei maggiori esponenti dell'antifascismo Molto molto giovane In cazzo In seguito comunque agli attacchi squadristi Alle percosse subite E che sposò Piero nel 1923 Negli anni del fascismo Fu al centro di una rete clandestina Di intellettuali Che avrebbe portato alla costituzione Del movimento giustizia e libertà Insomma Che è uno dei maggiori movimenti di opposizione Al fascismo Dove ci sono parte anche i fratelli Rosselli E nel 1941 Ada che nel 1937 si era risposata con Ettore Marchesini Partecipò alla fondazione del partito d'azione E dopo l'armistizio Con il figlio Paolo Entrò nella resistenza Collaborando anche alla costituzione E nei gruppi di difesa della donna Di cui la drammatica esperienza Scrive in diario partigiano Pubblicato la prima volta nel 1956 E' ristampato nel 1972 Quindi questa è una testimonianza Molto significativa di quegli anni E dopo la liberazione Aragobetti Che fu vice sindaco comunista di Torino Si impegna in una vasta attività di pedagogista Traduttrice e scrittrice Nel 1961 Con il figlio Paolo Fondo a Torino Il centro studi Piero Gobetti Che ha dato un importante contributo Alla vita culturale torinese E che ha pubblicato Tra l'altro L'intera corrispondenza Fra la montrada E il marito Piero E una monografia Anche su lei stessa E poi una terza figura Che penso abbiate anche sentito E' Carla Capponi Carla Capponi Fu una studentessa di legge Che dopo l'8 settembre del 1943 Partecipò coraggiosamente Alla resistenza romana Diventando presto vice comandante Di una formazione operante a Roma E in provincia E Carla Capponi E' molto famosa Perché futta gli organizzatori Dell'attentato di via Rasella In seguito poi al quale I tedeschi attuarono La feroce repressione Delle forze ardeadine Quindi è molto conosciuta Per questo episodio E riconosciuta partigiana Combattente con il bravo di capitano E' stata decorata Di medaglia d'oro Al valore militare Più volte parlamentare del PC Membro della commissione di giustizia Nei primi anni 70 Ha fatto parte Sino alla morte Del comitato di presidenza Dell'associazione nazionale Partigiani italiani Poco prima della scomparsa La Capponi Ha pubblicato Con il leitore Il saggiatore Un testo Un romanzo Che è molto utile Che io stesso Ho consultato E ho letto E che consiglio Perché comunque E' molto Veritiero E soprattutto Ci porta quasi Nella Roma dell'epoca Le racconta L'esperienza Di quegli anni Tremendi E io dico Che sia molto utile Per Insomma Per conoscere Quel periodo E appunto Con cuore di donna Che è Un testo Che ho consultato E a me Sembrato veramente Anche molto attendibile Quindi queste sono Tre figure Insomma di donne Che ho voluto Citare Ovviamente Ce ne furono tantissime Però io Dovevo concentrarmi Su due o tre figure Che rimanessero Impresse E ho pensato A loro E quindi Tornando Alla Nostra redazione Abbiamo detto Che nel frattempo Si erano costituite Da prima Questi gruppi Di difesa Della donna Di assistenza Combattenti Quindi a Milano Torino Firenze Nelle altre città I gruppi Di difesa Della donna Si diffusero Dall'inverno Nel 43 Alla primavera Nel 44 Iniziando a coinvolgere Soprattutto donne Ignare di politica Consapevoli però Che una scelta Antifascista Antitedesca Avrebbe affrettato La pace Che era Ovviamente Lo scopo Fondamentale Che le donne Si prefiggevano Di raggiungere E nei gruppi Di difesa Della donna Confuirono Gruppi Che già esistevano Di fatto Formati da Comuniste Socialiste Repubblicane Cattoliche Qui si vennero A aggiungere Soprattutto donne Prive di formazione Ideologica Politica Convinte dalle più Consapevoli Della necessità Di partecipare Al riscatto Della patria Di fronte alla proposta Della nuova organizzazione Molte si opponevano Sostenendo che le donne Già facevano parte Dei gruppi di azione Patriotica Dei cosiddetti GAP E che non c'era bisogno Che nascesse Anche una specifica Organizzazione femminile Poi alcune donne Provavano molto Da ridire Anche sulla denominazione Perché Sembrava una denominazione Cata dall'alto E volta a minimizzare L'azione delle donne Già in partenza Definita come Di difesa E di assistenza Però alla fine I gruppi sorsero E furono riconosciuti Dapprima dal Comitato Di Liberazione Nazionale Dell'Altre Italia Già nel luglio Del 44 Ma solo nell'ottobre 44 Venne accosta La richiesta Delle donne Di avere una propria Rappresentanza Anche all'interno Del Comitato Di Liberazione Nazionale E le riserve Che effettivamente Ci furono Da parte dei democristiani E dei liberali Derivano dalla paura Che questi gruppi Di difesa della donna Potessero essere Egemonizzati Dalla sinistra E in particolare Dal PC Se non altro Perché la gran parte De le donne Era comunista Timore che poi Si rivelò infondato Perché non risultarono Tentativi di L'assistenza necessaria Si accreverò dunque Il numero E la potenzialità Delle donne Impegnate Nella resistenza Alla quale Partecipavano In modo organizzato Quindi si incominciava Un'organizzazione Ben definita Già dall'estate Del 44 Che però Fu il periodo Più tremendo Perché gli eserciti Alleati Superata finalmente La linea Gustaf Sembravano Procedere rapidamente Nella risalita Della penisola Da Roma A Firenze E si sperava Che entro un anno Sarebbero Arrivati al nord Ponendo fine alla guerra Però in realtà Così non fu Perché dall'estate All'autunno Le truppe alleate Vennero stornate Dal fronte italiano Per gli sbarchi In Normandia E in Provenza E quindi i generali I americani Inglesi Avevano cambiato Strategia Avevano trovato Una strategia Che da un lato Era più rapida Per colpire al cuore La germeia nazista Dall'altro però Era più complicata Per la situazione italiana Perché in Italia Il fronte si fermò La linea gotica Che andava Dalla spezia A cesena Divise a metà La nazione Dalla liberazione Di Firenze Che avvenne L'agosto del 44 A quella di Bologna 21 aprile 45 Passarono circa nove mesi E furono i mesi Più drammatici Della guerra Nelle zone Prima da loro occupate I partigiani Dovettero risperdersi E con il suo programma In novembre Il generale Alexander Sembrò consigliare La lotta partigiana Di fermarsi E i partigiani Di tornare a casa Quindi c'è un momento Di grande difficoltà Di grande stallo E di grande pericolo Anche per tutti coloro Che erano impegnati In una lotta di liberazione E allora Nell'inverno più duro Della guerra L'inverno del 44 Mentre la speranza E la liberazione Si era allontanata E tutti erano sfiniti Da anni di fatica E di privazioni Le donne Moltiplicarono Il loro impegno Per aiutare i partigiani Nascosti nei paesi E ancora uniti in formazione Senza di esse I pochissimi distaccamenti Rimasti in montagna Non avrebbero mai potuto resistere E fornirono alla resistenza Un contributo In molti modi Ricoprendo Molteplici incarichi Io qui ho preparato Questa slide Dove c'è un'immagine Di refertore Delle donne Dottoresse Assistenti fuori Di ogni norma Ma pieni di slancio Le donne Soccorso E riferiti Negli ospedali pubblici O addirittura Organizzavano Veri centri Di fondo soccorso Mettendo insieme Quello che fu Una sorta di esercito Della salvezza Clandestino E nei giorni Della breve resistenza Di Roma Per esempio Le donne Furono in prima fila Accanto ai combattenti Noi gli fornirono Di armi Li portavano al riparo Se cadevano uccisi O feriti Carla Capponi Che abbiamo visto poco fa Che appunto Fu una delle maggiori Progetti Di resistenza romana Raccontò Che assistette I feriti In battaglia E ne portò uno Sino alla sua casa Presso e fuori Traiane Affinando alle cure Di sua madre Quindi una testimenta Molto Molto Vivida Le donne Poi tra le loro attività Organizzarono anche Sartorie clandestine Sotto la guida Di sarte e cucitrici Riunendo donne Di tutte le età Che lavoravano Per fare calzoni Giubbe Sciarpe Tutto ciò Che potesse servire A riparare Dal freddo Della montagna Soprattutto Che poi facevano arrivare Ai partigiani Che erano lì Rifugiati E tuttavia Dei mille incarichi Che le donne Ricoprirono Nella resistenza Il più caratteristico Forse anche il più Noto Fu quella della staffetta Che fu una nuova risorsa Nata dalla necessità Della guerra civile La staffetta Era di solito Una ragazza Il cui compito Era quello Di camminare Per tenere collegamenti Permettendo L'organizzazione E il funzionamento Dele bande E quello anche Di trasportare Ogni sorta di beni necessari Dalle armi Alle munizioni Dal cibo Ai vestiti Dalle medicine Alla stampa E si trattava Di un ruolo nuovo Non c'era niente Di tutto ciò In passato Che rendeva visibile Un elemento Che prima della guerra Era forse impensabile L'elemento Della libertà Perché Libertà Che le condizioni Eccezionali Del vivere Avevano regalato Alle donne Le quale Anche giovanissime Andavano in giro Dappertutto Attraversavano i villaggi Discendevano le valli E passando Per i posti di blocco Tedeschi E fascisti Spesso si muovevano In bicicletta Ma talvolta Si muovevano Anche a piedi Nella neve Nel fango Sotto il sole E dovevano spostarsi In prima linea Di correre In conseguenza Tutti i rischi Che questo comportava Da quello Di essere trattenuti E imprigionati A quello Di subire violenza E fino al rischio Ultimo Estremo Della propria vita Ed erano consapevoli Del rischio Che affrontavano Centiniari testimonianze Ci dicono Che alla consapevolezza Di partecipare Alla lotta Con il nazifascismo Questi univano Un desiderio Di libertà Di autonomia personale E di uguale diritto Delle donne Alla responsabilità E spesso trasportavano armi In questo caso Il pericolo Era ancora più grave Perché i bandi Della Repubblica di Salò Prevedevano Per chiunque Fosse stavo trovato In possesso di armi L'esecuzione Quasi immediata Quindi il rischio Che correvano Era doppio E naturalmente Un capitolo Fitto di testimonianze Per quanto riguarda L'attività delle donne Staffette E quello che riguarda La diffusione Della stampa clandestina Perché le donne Lavorarono Anche in questo senso Per diffondere I giornali clandestini Perché ovviamente Anche Sì i partigiani Che i gruppi Di difesa della donna Ebbero dei propri giornali In questo caso Io ho fatto Una slide apposita Dove per esempio Volevo farvi vedere Come questo fosse Un foglio Tipico Dei gruppi Di difesa della donna Che c'erano tantissimi Così circolavano Buscoli Fogli Perché lo scopo Ovviamente Era fortemente Provagandistico Si cercava Di rivolgersi Direttamente Alle donne italiane Alle madri Per esempio Qui c'è un appello Alle donne astigiane Ovviamente A seconda Dei luoghi Di azione Si si Divolgeva A questo O quelle altre donne E interessante La seconda parte Dove dice Madri italiane I tedeschi E i fascisti Vogliono arruare I vostri figli Per mandarli a fronte Per mandarli in Russia A combattere Per i tedeschi A compiere Un pera criminale Di tradimento Non lasciatevi Rapire i vostri figli Molto facilmente Non li rivedreste più Perché i nazifascisti E quanti servono Sotto le loro insegne Saranno certamente Schiacciati Agli eserciti Vittoriosi E le nazioni alleate Non date ai tedeschi I vostri figli Incitatevi invece A raggiungere i patrioti Le greose brigate D'assalto garibali Una parte dei partigiani Più vicina Più comunista Era una delle più attive Mentre invece I partigiani azzurri Diciamo Quelli più democristiani Afferivano soprattutto La brigata Badoglio E compiranno così Opera nota Onorata e patriottica Concorrendo A ridare Al nostro popolo E alla nostra patria Libertà e indipendenza Firmato Rupi Difesa Della donna E per l'assistenza Ai combattenti E alla libertà Quindi questo è un Tipico foglio Dell'epoca E i gruppi di difesa Organizzarono subito Il loro giornale Trandestino a Milano Dall'ottunno del 43 Al 44 E ne vennero pubblicati 11 numeri Per la direzione Di Giovanna Barcellona Elina Fibbi Comuniste Claudia Maffioli Socialista E Ginetta Martini Fanoli Azionista Mentre altri giornali Dei gruppi Numeri assai limitati Si stampavano In Lombardia A Mantova A Brescia In Ligure In Piemonte Nel territorio occupato E di solito Poi ci fu un altro modo Nel quale le donne Operavano una resistenza E' quello Di combattenti attive Impegnate in prima linea A paere I uomini E gli scontri Con gli antifascisti In effetti Questo fu un ruolo Un po' più Defilato Che la maggior parte Le donne Fosse funzioni Che abbiamo Fino ad essere Dello Stato Però ci fu Anche una Una parte Che partecipa Come prima persona Combattendo Addirittura Dobbiamo dire Di stoffetti Di stoffetti Di stoffetti No Perché era Terribile Beh si Certamente Però Vedendo Col fucile in mano La cucinice Era già più complicato Da accettare Per loro E le donne Che andavano In formazione Scegliendo Così La lotta armata Erano poche Rispetto Alle altre Perché Come al solito Quando Donna Doveva dimostrare Di essere ancora Più brava E era Faticoso Essere donna E con questo Ommeno Essere donna Partigiano Quindi Dovesse dimostrare Il doppio Per farsi accettare Sostanzialmente Un ruolo Che era Così fuori dagli schemi E nei testimonianze Femminili Questo disagio maschile Appare evidente Perché Stesse partigianne Anche quando Le donne Avevano Intrigata Tendevano Affidare loro Un carico Tipicamente Femminile Di mostrare L'uomo Nello Si rispetto Sul campo Nella vita In comune E la lotta armata E Un ruolo fondamentale Fu poi Oltre a quello D'acquanto Le donne Che Con battenti Attive Quello delle donne Che Nelle fabbriche Fostero Azioni Di disturbo Di sciopero Non rifiutavano di collaborare Con i nazi fascisti Perché Gli scioperi Del marzo 43 Con posto Nelle fabbriche Del nord La molla Che scattò In loro Fu Timore Di vedere I mariti Figli Fratelli Padri Che rischiavano Di essere Riportati E si doveva In periodo A tutti i costi Per questo Gli scioperi Del 44 Videro Una consiglierevole Massiccia Presenza Femminile E il numero Di partigiane Impegnate Nella resistenza Non è facilmente Quantificabile Si tratta di un numero Elevatissimo Circa 35.000 Partigiane Combattenti E 70.000 Che invece Aderirono Ai gruppi Di difesa Della donna Quindi sono numeri Molto imposti Torturate Violentate Uccise Per l'aiuto Che avevano Fornito Alla patria In uno dei momenti Più bui Che l'Italia Avesse mai Attraversato Alcune Hanno ricevuto Medaglie E ondificenze Per ciò Che hanno Voluto Sopportare Però la maggior Parte Di loro È passata Sotto silenzio E rimasta Sconosciuta Nonostante Il grande Coraggio La pregazione Il sacrificio Dimostrati In quegli anni A guerra Finita Infatti Molte donne Tornavano In disparte Non poterono Nemmeno Sfilare Quei loro Compagni Nei costretti Onfai Delle città Liberate L'indomani Del 25 aprile Quasi come se Quella guerra Non l'avessero Combattuta Anche loro Come se Non avessero Affrontato Gli stessi Pericoli Fatti Gli stessi Sacrifici Degli uomini E c'era infatti Una certa Riduttanza A far sfilare Le partigiane Nei cortei Di liberazione Accadeva però Sempre quasi Con timore Con paura Essa fu Il preludio A quel silenzio Che da allora Coprirà Centinia di storie Vissute da quest'ilmo Che si era diffuso E altre Per rabbia Per amarezza E non vedere I conosciuti Comunque quelli Che erano stati I loro meriti Le partigiane Dunque Nella grande maggioranza Non solo Non furono sollecitate A parlare De loro esperienza bellica Dall'interesse Di familiare Associazioni partigiane O studi La resistenza Ma anzi Compresero Che non bisognava Parlarne più Quella stagione Splendente Rimase nella loro memoria Come la giovinezza Però molte Smisero di raccontare Smisero semplicemente Di parlare Proprio per la disillusione Di come erano state trattate E nelle loro testimonianze Le donne non tesero Esaltare il loro gesto Anzi anche quando Abbiamo i racconti Andano sempre a sdrammatizzare Quello che hanno fatto Con una certa cosa Di ironia E talvolta Affermano dietro E non aver fatto Nulla di così Eccezionale Anzi la maggior parte Di loro Tornate a casa Non sollecitò I riconoscimenti ufficiali Centrata sulle donne Che fecero Tutto un altro tipo Di scelta La scelta opposta Rispetto a quelle Le partigiane Cioè le ausiliari Del servizio ausiliario Femminile E quando io Scrisi Insomma la mia tesi triennale E arrivai a questo Terzo capitolo Che è poi Incentrato Sul punto Le donne Dopo l'8 settembre Del 43 Dopo ho preparato Le partigiane E mi trovai davanti A quest'altra parte Di storia Che fino a quel momento Io conoscevo ben poco Come anche credo Molti di voi Perché non si parla Molto di questo aspetto Cioè una sorta Di ammazio memoria Un po' perché la storia La fanno i vincitori E io credo che Chiunque voglia Fare storie In maniera seria Dei casi alla ricerca storica Non debba dare Un giudizio morale Non sta a noi Giudicare Ovviamente Giudicare Quello che ritiene Giusto o sbagliato Però non perché Magari Un comportamento Si può ritenere Sbagliato Non serve parlare Assolutamente Cioè non mi sembrava giusto Nel momento in cui Ho scritto la mia tesi Concentrarmi solo Sulle donne partigiane Pur essendo magari La mia stupata E più vicina a loro Pur riconoscendo Ovviamente Dei meriti Però non per questo Mi sembrava serio Anche da alcuni Di una ricerca storica Condannare la dannazio memoria Secondo me Siccome hanno rappresentato Un fenomeno anche importante Un po' un unifum Anche nella storia italiana Perché poi donne Soldato reggimentare In un esercito Così ordinato Fino a quel momento Non c'erano state Mi sembrava doveroso Comunque parlare Poi è chiaro Che Ognuno Per maniera Di sostenere Il regime fascista E Sono le cosiddette Ausiliare del Stato Servizio Ausiliare femminile Queste donne Formavano un colpo militare Di circa 6.000 ragazze Primo esempio Nella storia italiana Di volontari inquadrate Nelle forze armate Come già accadeva in Inghilterra Negli Stati Uniti E in Germania Un impulso fondamentale Alla costituzione Di questo corpo De donne e soldato Vene dal giornalista Concerto Pettinato Che fu un po' l'ideologo Diciamo così Di questa figura di donne E Richiamato da Mussolini A dirigere la stampa Dal suo quasi esilio Veterinale Esilio svizzero E Concerto Pettinato Io qui ho riportato Le parole che lui scrisse Sulla stampa Proprio per incitare le ragazze Ad arruolarsi Sulla stampa Il 13 gennaio del 44 Lui scrive Quando parliamo di uomini Non dobbiamo dimenticare Che tra gli uomini Ci sono le donne E strano a dirsi Le donne sono sempre state Nelle ore di disperazione L'angola di salvezza Dei popoli Qui c'è un'immagine Proprio Una frase corretta Sì Che poi voglio dire Non è A parte quello strano a dirsi Però Chiaramente Non è Non è Non è No Infatti C'è un'immagine Direbbe storia Di una delle prime Parate Che le ausiliare Fece Credo che sia proprio Una delle prime Perché poi c'è questo elemento Della parata Che sicuramente Come ricordate Dal convegno Dell'altra volta Era poi tipica Del regime E loro ovviamente La riprendevano in pieno Questa è una delle prime parate Fatte dalle donne Del SAF E quindi Congetto Pettinato Con queste parole Voleva cercare Di esaltare Le giovani combattenti Rilangiando i miti Di Esther Giuditta Giovanna d'Arco Anita Garibali Tutte le grandi donne Guerriere sostanzialmente E fu un successo immediato Perché Le aspiranti Furono molto numerose Venero indirizzate I gruppi fascisti Repubblicani Femminili Presenti in ogni Delegazione provinciale Del partito Che facevano capo All'ispettorato nazionale Diretto da Brescia D'Alicia Abruzzese Due espettrice nazionale Dei fascisti femminili Dall'agosto 40 Al 25 luglio 43 E i gruppi femminili Selezionavano le donne Fra i 20 e 40 anni di età Che non avessero figli Di età inferiore ai 14 anni E le invitavano A restare a disposizione Furono alloggiate Momentaneamente In qualche albergo Vicino alle federazioni O in case private E ci fu un'andata Di entusiasmo Perché si presentarono Operai Studentesse Giovanni giornaliste Figli di contadini Quindi Comunque uno scenare Molto vario pinto Uno anche molto stratificato Che afferiva A diversi livelli sociali E allora Perché ci fu una Così tanta adesione Nel momento in cui Il regime stava Comunque per finire Era abbastanza evidente Insomma questo aspetto Era difficile pensare Che il regime Si potesse riprendere Sì c'era la propaganda Però era chiaro Dopo l'armistizio La piega Che gli eventi Stavano prendendo Allora perché Tutte queste adesioni Di ragazze Anche molto molto giovani C'è cercato I storici Hanno cercato Insomma di trovare Delle motivazioni E possono essere Motivazioni molteplici Innanzitutto la ricerca Di una maggiore identità Il bisogno di sentirsi Protagonista Del proprio destino Quindi La stessa situazione Magari Ecco Diciamo che Il bisogno Una necessità Di indipendenza Di libertà Che caratterizzano Sia le partigiane Che le partigiane Più meno lo stesso Poi ovviamente La finalità La mentalità Ovviamente Lo scopo È differente Però alla base C'è uno stesso Desiderio Di libertà Che ovviamente È come se si trattasse I due facce In una stessa medaglia Questo è Importante Da poter fare E quindi Al contrario Delle partigiane Spinte ad andare a combattere Da rifiuto Delle ingiustizie Delle idee Di costruire Una società nuova Quindi da rifiuto Del regime Invece Gli ausiliari Si arrollavano Per fedeltà A un regime Che consideravano Immutabile E per un amore Viscerale Nei confronti Di Mussolini E quindi Invito Ecco A ricordare Quello che abbiamo detto Già Lo scorso 20 ottobre Quando abbiamo parlato Della veificazione Della figura del duce Del consenso Che si è aggrato Attorno a lui Del culto E la personalità E anche delle organizzazioni Di regime In cui erano rigidamente Inserite Le donne I ragazzi E ovviamente Se consideriamo Il contesto dell'epoca Quell'azione Quel culto Della personalità Così ben propinato Aveva dato i suoi frutti E quindi Era normale Che funzionasse ancora Soprattutto su ragazze Poi molto giovani Che non volevano Se vedevano Come un tradimento L'abbandono del duce Cerchiamo di ragionare Anche con Quello che è Il contesto Dell'epoca Non soltanto Con la mentalità Ovviamente nostra Che noi siamo prodotti Comunque dell'antifascinismo E' giusto che lo siamo Però consideriamo Anche il momento storico E quella abile Macchina di propaganda Che il regino Aveva messo in atto E che Aveva sempre funzionato Molto bene E quindi Mussolini E' una specie E' una specie D'idolo Un padre amante Insostituibile Spesso appena Adolescenti Le componenti Del servizio Auxiliario femminile Si lasciavano In qualche modo Rapire Dalla tentazione Di una nuova emancipazione Ed abbracciavano La causa Con una passione A tratti estrema E con uno slancio Di volontarismo femminile Mai visto prima In Italia Le auxiliari Senza alcuna condizione Pensavano Di dover contribuire A riscattare Il disonore E la vittà Di chi aveva tradito Il fascismo E la patria in guerra Perché poi era questa L'idea che era passata Dalle giovani Che appunto Si trattavano Di un trarimento E bisognava riscattare Quella vergogna Cioè il pensiero opposto Rispetto a quello Delle partigiane Ma che spinge A un desiderio Comunque di emancipazione Di azione Proprio in prima persona Seppure appunto Con le ideali Che c'è una grossa differenza Tra le due donne Queste comunque Rientravano sempre Sotto la protezione Di un'organizzazione Senale Perché i partigiani Andavano allo sbaraggio E' chiaro E' chiaro E' chiaro Infatti Uno slancio Il primo esercito Diciamo regolare Di donne Però sempre di esercito regolare Appunto si trattava No? Chiaramente si Si trattava di due aspetti Diciamo anche Che l'aspetto economico Dello stipendio Alle povere donne Sì Infatti poi Ci arriviamo Poteva anche essere Infatti Quello poi Ci arriviamo Quello non è un aspetto Non ho ragione Non è un aspetto Da sottovalutare È un aspetto Tanto che spesso L'ora Era il sostentamento Della famiglia Perché i uomini Eravano morti Eravano in guerra Quell'aspetto Non è un aspetto No assolutamente Quindi Soprattutto le donne Ecco che già Avevano una famiglia Magari le ragazze Più giovani Si lasciavano più Irritire dal mito Dall'idealità Invece la donna Che magari doveva pensare Alla famiglia Sulle spalle Ovviamente guardava Anche con l'aspetto Economico E sì Questo non è Fatto bene Panno a metterlo in evidenza E quindi ovviamente Se da un lato Esse furono rapite Dal fascismo E dal suo duce Dall'altra Però furono le prime Ecco a essere Inguadrate Come ha detto Rosa In un primo In un corpo militare Che le scioglieva Da quel ruolo Tipicamente femminile Che avevano sempre avuto In altre parole Si mettevano in pratica Quella voglia di emancipazione Che già da tempo Aveva caratterizzato Le stanze delle donne E inaspettatamente Accadde che migliaia di donne Sentissero a posto Dei loro uomini La vergogna Per quella disfatta E desiderassero Sostituirsi ad esse Una sorta di trasposizione Che le donne vogliono fare Per dimostrare al mondo Che il cuore Di un'italica virtù Guarda il mito Della Romanita Se che abbiamo parlato La volta scorsa Di quella La Roma Invincibile E volevamo dimostrare Che quel mito Continuiamo a battere Sia pure in pecchi femminili E fu qui Tutta qui La sintesi Del fenomeno unico Nella storia Non solo di Italia Delle ausiliari Della Repubblica Sociale Italiana Qui le donne del Saf Erano prodotti Del fascismo Essenzialmente Come più tardi Noi diventeremo Prodotti Dell'antifascismo E lo stesso Si può dire Delle avversarie Le partigiane Però erano allacciate A poli diversi Di una stessa fonte di energia Come abbiamo messo in evidenza Erano due diverse etopee Quella è la donna fascista E quella è la donna partigiana Due mori di essere Le parole di se stesse E di contare La vita sociale del momento In un momento Di grande difficoltà Tanto il Saf Viene istituito Con un decreto ministeriale Numero 447 Del 18 aprile 44 Quindi un annetto Prima che finisca la guerra Più o meno Pubblicato Sulla gazzetta ufficiale E in questo caso Ecco io Vi ho messo in evidenza Come in 12 articoli Questo decreto Stabilisse Alcuni capisalga Quello dovevano attenersi Cioè dovevano avere Tra i 18 e i 45 anni C'era uno stipendio Appunto Che andava Che uscitava Dalle 350 Alle 700 lire al mese E questo pure Non era poco No appunto Non era uno stipendio E più lo stipendio Era alto E poi Era sottoposto A un codice militare Che era molto rigido Perché era vietato Usare cosmetici Rossetto Smatto Eccetera Era vietato Fumare in pubblico La libera uscita E partecipare A stesse pubbliche balle Quindi comunque C'era molta attenzione Al codice militare Io ho messo una foto Dell'epoca Dove È un momento Dell'addestramento Sempre si vede Come la ginnastica L'educazione fisica Sia un elemento importante L'avevamo visto Anche l'altra volta Che il fascismo Riprendeva molto Il concetto romano Della mense sana In corpore sano E quindi C'era grande attenzione A questo aspetto Anche dell'educazione fisica Della ginnastica Della cura Del corpo In questo senso E Tra l'altro La loro divisa Era molto spartana Le ausiliari Fuero chiamate Anche donne In grigio verde Perché Indossavano Un panno grezzo Grigio verde Per l'inverno E una tela Cati per l'estate Dovevano avere La gonna lunga A 4 teli 4 cm Sotto il ginocchio Sempre per il motivo Comunque del decoro Che era un tema importante La giacca aveva il collo A due tasche A la sariana Il clavio Era il simbolo A cui erano più attaccate E in testa Portavano un basco Grigio verde Con la fiamma Ricavata in rosso Le calze erano lunghe Grigio verde E il cappotto Di tipo militare Quindi appunto Un ammigliamento Molto serioso Molto spartano E il regolamento Inoltre Stabiliva Che si potevano Arrollare Anche ragazzi Di età inferiore A 18 anni Però in quel caso Il nuovo adestramento Sarebbe stato curato All'opera Balilla E vennero istituiti Quattro raggruppamenti Fondamentali Questa è un'immagine Di una siliare Dell'epoca E sempre vedete Non so di dente Perché la propaganda Voleva comunque Che si trasmettesse L'idea positiva Non certo disfattista E vennero istituiti Quattro raggruppamenti Fondamentali Posti di ristoro Servizi ospedalieri Servizi territoriali Difesa contraerea E tra l'altro Le domande di arrollamento Furono abbastanza numerose 5.771 A fine maggio 1944 I corsi in totale Furono 6 La durata di 2 mesi ciascuno E avevano i nomi retorici Dell'epoca Italia Roma Brigate nere Giovinezza Fiamma E l'ultimo Si chiamò 18 aprile 45 E la vita dei corsi Di addestramento Era molto impegnativa La disciplina era ferrea E le giornate Erano scandite Agli squiri di tromba Sveglia alle 6 Alza bandiera alle 7 Colazione alle 7.30 Cambio della guardia alle 8 Ginnastica alle 8.30 Addestramento militare alle 9.30 Il resto della mattinata Il pomeriggio erano dedicati alle lezioni Leggi di guerra Educazione fisica E materie relative alle varie specialità Che poi ciascuno sceglieva Quindi infermiere Marconiste Stenodattilografe Radiotelegrafiste Autiste Interre Per di Economia domestica Si Telefoniste Contabili Cuciniere Insomma A seconda della specialità prescetta E c'era anche L'addestramento All'uso delle armi Perché Perché le ausiliari Non fossero armate Però dovevano essere In grado di difendersi E al termine Di ogni corso Venivano poi assegnate Comandi militari Regionali e provinciali Da cui dovevano dipendere Le donne erano inquadrate In tre grandi filoni Come io ho messo lì in evidenza Che erano più grandi E più importanti Il servizio diario femminile Il SAF Poi c'erano le brigate nere E la decina mass Allora Il servizio diario femminile Era quello più numeroso Fondamentale E in cui Le donne Come abbiamo visto Non erano armate Però si dovevano comunque Saper difendere Per ogni emmenienza E la comandante Del SAF Era Piera Gatteschi Fondelli La contessa Piera Gatteschi Fondelli Che fu il punto di riferimento Del SAF E che però Si dimostrò contrario Ad armare le auxiliarie Perché le riteneva Che se le auxiliarie Fossero state armate Poi sarebbero state facilmente Impiegate In opera di Antiguerriglie E quindi Si poteva esporre Anche un pericolo più grande Diciamo che la Contessa Piera Gatteschi Fondelli Si era resa conto Che No no Ti comporti Come ti stai condannando Le donne Le donne poi ovviamente Sia partigiane Sia partigiane La stessa La stessa Sorte E in effetti Lo slaspirare di olio Che continuò ancora Per diverso tempo Anche a conflitto Finito E Aspitorare l'Italia Finì per stavolgere Pure le auxiliarie Odiate molto Anche dalle stesse partigiane Anche a conflitto Anche a conflitto Anche a conflitto Anche a conflitto Anche ancora di più Perché le avversavano così tanto In quanto in esse riconoscevano il fascismo Quando si donna E dato che la repubblicità di Salò Viene identificata come l'estrema finca Sia di dolore Di sofferenza E morte E una delle differenze fondamentali Tra le due categorie di donne Fu che le partigiane Volevano annullare il passato Per far splendere il sole Dell'avvenire Mentre le auxiliarie A quel passato Rimassero fatalmente legate Quindi questa era La grande differenza Però sia le une Che le altre Pagavano un prezzo altissimo Per aver voluto tentare Di essere padrone Del proprio destino E se naturalmente Come abbiamo detto Non si può riconoscere I media e le partigiane Che compresero Prima Che era giusto Abannuare il regime Perché stava portando l'Italia La rovina E capinano Quale sarebbe stato Il bene reale della patria Però è anche vero Che si deve riconoscere Che l'incisione Di molte auxiliari E il conflitto ormai concluso Con quella efferatezza Con quei modi E certamente Non fu che l'ennesimo atto Di barbarie Di disumanità Di una guerra Che spesso Aveva cancellato Ogni traccia di umanità In coloro Che l'avevano combattuta Da entrambe le parti Quindi questo è importante Che lo sottolineiamo Una guerra Che aveva senza dubbio Viste per la monista E le donne Che serviva Trampolino di lancio Poi fondamentale Per tutti i diritti futuri In primis Quello di voto Che sostennero Poi nell'immediato Troppo guerra Con il 2 giugno del 46 Però che in cambio Aveva richiesto loro Un tributo davvero Molto alto E poi Se una cosa Che mi ho proposto Se può essere interessante Una breve bibliografia Sia sulle donne Da resistenza Sia sulle donne Ausiliari Io ho trovato Molto interessante Il libro di Marina Di Sassaba Sulle partigiane Di Anna Bravo Anche in guerra Senza Il spere di donne Molto bello E la resistenza Taciuta E poi Il spere invece Le donne Ausiliarie Senza dubbio Il memoriale Di Luciano Caribaldi Su quanto gli ha scritto La Gatteschi Pondelli Le donne soldatesse Di Mussolini E poi donne di Salò E donne di Guigio Verde Di Marino Ricano E questo Scusate Se mi fosse Io ho concluso E' una bibliografia E' una bibliografia abbastanza recente Sì Soprattutto per quanto riguarda le donne di Salò E' un tema che sta emergendo dopo Diciamo man mano che si Allontana Si stacca Per qualsiasi domanda Dipattito Adesso L'onorabilità Era un po' anche come abbiamo visto prima Per le partigiane Non potevano stare in formazione Perché le famiglie magari non volevano che permissero con gli uomini E ovviamente le disspecchia un po' questa che è la mentalità dell'epoca E soprattutto c'è questo rammarico Per non essere riuscita a salvare tutte le ragazze Che l'hanno fatto parte del SAPP E infatti in un primo momento Proprio per questa paura Si decise il 18 aprile del 45 Che era il giorno dell'ultimo corso di addostramento Del giornamento dell'ultimo corso di addestramento Di smobilitare il SAPP E di rimandare alle proprie case le ragazze Nella speranza di ridurre le vendette e le ritorsioni Che era evidente ormai Con la guerra che stava finendo Si sarebbero inevitabilmente verificate Di chi aveva sostenuto il regime E il stimone della Gatteschi Non si rivelò affatto in fondato Perché dal momento All'aprile e il maggio del 45 Quindi in un mese circa Fuero uccise circa 300 ossiliarie E spesso dopo essere state torturate e violentate Ci avvenne cosa più assurda La conclusione dell'ossilità Cioè la guerra finita Comunque queste donne Furono vittime di ritorsioni A pace fatta Di tortura Di stupri La cosa prendiamo nei capelli Per lo scopo Esatto 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 Ci furono Una futale di collaborazionismo Per carità Era vero Ma è come questa tonda di giustizia Pagliate Che poi Eferata E violenta E infatti Illusiva di odio Che era ancora acceso e esacerbato Da un conflitto Che l'ha durato troppo a lungo Tanto lascivola La racconto nel vato oscuro Della guerra civile Che poi ovviamente Portò le feratezze Da in grande le parti Perché non ce la dimentichiamo Le feratezze Furono fatte dai fascisti Però le feratezze Fuono fatte dai partigiani Perché poi la storia La dobbiamo come dire Raccontare in maniera oggettiva Quando ci piace E quando non ci piace E se ne preghi Se pensiamo a Panta Giampaolo Panta Nessuno dei vinti Lui comunque racconta Buonissima Piera Catteschi-Fondelli Io ho provato una slide Su di lei Giusto per far capire Che si trattava Questa è lei Uno dei primi corsi Di addestramento E c'era dire Che Piera Catteschi-Fondelli Fu nominata Comandante del SAF Proprio da Mussolini stesso Perché era una fedelissima Di Mussolini Era una fascista Della prima ora Quindi il luce Si chitava ciecamente Di lei Che nacque a Greve In Chianti Nel 2 Nel 21 Si iscrisse al fascio Di combattimento di Roma E il 10 ottobre del 22 Prese parte al congresso Del partito fascista Che si svolse a Napoli Divenne poi Spettrice Della federazione Della URB E nel 36 Lasciò ogni incarico Per seguire in Africa orientale Il marito Il conte Mario Catteschi Ingegnere Che dirigeva I lavori della strada A Sabba di Sabreba Quando tre anni dopo Rentre in Italia Mussolini la nominò fiduciare Dei fasci femminili Delle URB Che contavano 150.000 iscritte Quindi era già Un ruolo importante Del tema della guerra E nel 40 Fu spettrice nazionale Del partito Dopo la cauta Del fascismo Mentre il marito Tornato in Africa Come combattente Era in Kenya Prigioniero degli inglesi Informata che Mussolini Era stato liberato E aveva fondato La Repubblica di Salò E che era Sesteria a Brescia Aveva una collaborazione Con Alessandro Paolini Che allora era Il segretario Del partito fascista E qui da un'idea Sia della Gatteschi Sia dello stesso Paolini E in parte anche di Mussolini Però soprattutto Di loro due E indietro Anche il sostegno culturale Come avete potuto vedere Prima di Concetto Fettinato Che fu un po' l'ideologo Anche del movimento Manifestò al Duce Il desiderio Delle onde fasciste Di avere un ruolo Più incisimo Alla ripresa del paese Ed era nata In quel modo Le osbiere del SAF E tra l'altro Ragatteschi Ha scritto anche Un memoriale Su quello dell'epoca E un memoriale Che è stato curato Da Luciano Garibaldi E le soldatesse di Mussolini Io stessa Ho letto questo memoriale Perché è una fonte Comunque Ovviamente Si parte Con tutti i limiti Che può avere Però Diciamo che è abbastanza Utile Per capire il contesto In cui agivano Le osiliarie E tra l'altro Lei se la capò In maniera molto Rocambolesca Che si riuscì Appunto a salvare Come avete intuito Dallo memoriale E perché Fu data per morte In un primo momento Visse in grandestinità Fino al 47 Poi tornò in libertà Perché il tribunale Militario Non aveva alcun procedimento Contro di lei E trascorse Tutta la vita Nel ricordo Di quella sua esperienza Come comandante Del Stato Tanto da scrivere Appunto questo memoriale A cui poi Luciano Garibaldi Ha lavorato La storia di Luciano Garibaldi Ha lavorato Ed è una testimonianza Comunque Ripeto Tranne ovviamente Applati Esagerati Del fascismo Però Che può essere utile Che ha Insomma A dei momenti Può rappresentare Una fonte Veritiera Io l'ho letto L'ho trovato Abbastanza utile Oh E quindi Nei giorni poi Immediatamente precedenti La rotta fascista Del 25 aprile Lagarteschi Il suggerimento Di Mussolini E Pavolini Cercò di mettere in sacco Le sorsiliare Le racquetaglie partigiane Perché La paura fondamentale E poi anche L'impianto più grande Che emerge dal memoriale De Lagarteschi È quello Di non essere riuscita Comunque a salvare Forse delle ragazze Che lei aveva avuto Come i suoi auxiliari Essenzialmente Tra l'altro Lagarteschi Era molto rigida Lei impose Alle sue auxiliari Come abbiamo potuto vedere Prima Una disciplina Molto perdita Perché La sua paura Fondamentale Era che Le sue ragazze Le si sono viste Come ragazze leggere Quindi che Le si sono considerate L'epoco di buono E voleva in tutti i modi In tutti i modi Preservarne l'onore Quindi addirittura Un'occhiata equivoca A un camerata Poteva costare La camera di punizione Proprio perché Era quasi ossessionata Dalla paura Che fossero giudicate male Che fossero giudicate Appunto Come Ragazze poco serie E su questo elemento Lei insiste tantissimo Anche nel memoriale Lo ripete spesso Insomma Che Le ragazze Erano ragazze serie O Volevo che Si comportassero In un certo modo Cioè Quasi una Una cosa ossessiva Ma non era molto lontana Dalla resa Perché gli uomini fascisti Avevano un po' Con il concetto Le combattenti Contro l'isis Sì Le combattenti Curde Chiamate Curde E la loro scelta È quanto È quanto Stanno lasciando Diciamo Sulle vucitazioni Che le ha portate Poi ad abbracciare I cucili Non sono Perché Io personalmente Non sono Per abbracciare I cucili Però devo dire Che non posso Non Capire Profondamente Le ragioni Di queste ragazze Che si stanno Sottraendo Ad una Situazione Terribile Per loro Ma anche per altri Naturalmente Familiari Parenti e amici Ma per loro Donne In quanto donne E siamo sempre Lì Il discorso La radice Della violenza Di tutte Le violenze Per cui È interessante Come alcuni spunti Ritornano Nella realtà Di ora E voglio dire Per esempio L'organizzazione Il lavoro di rete Delle donne Partigiane E tutta Quella massa Di donne Che non Come dici tu Non viene alla luce Ma che ha messo A mondo Il mondo Della filiera Partigiana Perché Se non ci fossero state Probabilmente Non avrebbero potuto Durare E reggere Poi le file Compattenti E anche sempre Con Maria Rosale Che mi ha fatto Un po' D'arte E rego Riflettevamo Dice Tra le cose Interessanti E che anche noi Nelle nostre forme Di resistenza Attuali Varie forme di resistenza Che non sono quelle Della guerra Fatta attraverso Le armi Ma ci sono tante Forme Di guerre Di attacchi Che vengono fatti Sul piano culturale Ma con lo scopo Sempre di Assoggettare Di tenere Sotto controllo Di tenere A minus Quello che invece Vuole esprimersi Come libertà Come anche qui La rete Funziona E ritorna Diciamo Il lavoro Il lavorio Di mettersi in rete Da donne Ma non solo da donne Da donne Ma per donne Uomini Insieme Ed è un quanto sia Interessante Stato Interessante Importante Quello che dicevi tu E come è importante Attualmente Questo mi sento di dire A caldo Perché ci sono Insomma tante altre cose Abbiamo dialogato Anche Anche prima Anche prima Alla mattina Appena alzate Laggiù in risaia Ci tocca andare E fra gli insetti E le zanzare Oh bella ciao Oh bella ciao Ciao, 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 ciao Fra gli insetti E le zanzare E le zanzare Duro lavoro Ci tocca Paz Oh mamma mia Oh bella ciao Oh bella ciao Oh bella ciao Oh bella ciao Ciao, ciao, ciao Oh mamma mia Oh bella ciao 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 Quante Quante Lavoreremo In libertà Oh bella ciao 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 Oh bella ciao